Grazie a Vito Mancuso per questa ricchissima bella relazione di cui molteplici sono le linee. Chi vuole intervenire è benvenuto. Buonasera, ringrazio il professore Mancuso per questa interessantissima lezione. Desideravo innanzitutto porre l'attenzione sul mosaico che fa da spondo a questa edizione. Perché se vedete bene, l'albero maestro non è un albero maestro normale, è una croce. Perché già a partire da un'epistola di Seneca all'Uscidio, Ulisse viene esaltato come emblema di perseveranza proprio nell'episodio delle sirene. Ma Paolino Danola e poi Ambrogio insistono sul fatto che questo episodio diventi allegoricamente una immagine della capacità di riuscire a sopportare e a superare le tentazioni. Anzi Ambrogio in un passo dichiara espressamente che non c'è bisogno di farsi legare all'albero come ad una croce, come ha fatto Ulisse. Quindi cita esattamente questo episodio. Cioè nel Medioevo c'è una risemantizzazione del mito in funzione dell'episodio delle sirene, in funzione proprio di questa capacità di resistere al peccato. Circa il discorso della giustizia che citava il professore Mancuso, però non è così secondaria la giustizia in Dante. Penso il 18 paradiso di Ligite justitiam qui iudicatis terra, che è un punto fondamentale alla tradizione religiosa e che trova anche in Dante un suo sostenitore. Devo dire che di tutto questo bel discorso del professore Mancuso non mi ha convinto il riferimento al Leopardi. Intanto se la vogliamo dire tutta, Ulisse fa naufragio, non raggiunge il porto, l'Ulisse dantesco. Certamente si potrebbe obiettare che proprio il fatto di avere comunque cercato una sua strada, che non è detto che debba raggiungere un porto, è già di per sé una meta che ha indicato. Allo stesso modo il naufragio è dolce in questo mare e il naufragio nel nulla. Ma nella ginestra, e c'era qualcosa che il professore Mancuso citava, della limitatezza dell'uomo rispetto ai tanti infiniti possibili, che viene ricordato proprio in quel passo da Leopardi, Leopardi insiste sul fatto che il mettersi in gioco, nulla sottraendo al vero, è lo scopo della vita. Quindi il scopo della vita di Leopardi non è quello di mettersi da parte, non fa affatto naufragio. Qualcuno ha tentato di farglielo fare il naufragio, è stato osteggiato, soprattutto da un certo tipo di pensiero cattolico. C'è un passo poco riutilizzato, poco riletto, di Giovanni Gentile prima dell'adesione al fascismo nel tramonto della cultura siciliana. Gentile che certamente, come ben detto Croce, era contrario all'atteggiamento classicista. Ricorda come a Palermo ci sia stato un fatto credo unico, nessuna università italiana avrebbe mai accettato di dare a Leopardi una cattedra. Dopo la morte del Nasce, che era professore di eloquenza latina, Tommaso Gargallo ed altri tentarono di dare la cattedra di eloquenza a Leopardi, l'unica università in Italia. Poi le condizioni di salute di Leopardi impedirono questa cosa. Quindi la clericale reazionaria Borbonica-Palermo degli anni Trenta si era aperta anche al classicista Ateo e Gobbo, che ha combattuto la sua vita nel suo mare dell'essere con grande attenzione e con lotta titane. Vuoi rispondere? Ora raccogliamo un po' Ma no, io non... Non so cosa dire, nel senso che la mia tesi riguardo a Leopardi non è in contraddizione con le cose che il professore ha sottolineato adesso. Sono d'accordo pienamente sulla figura di Leopardi. Non l'ho citata come esempio negativo, come esempio nichilistico di colui che non voleva cercare il vero, di colui che non... minimamente. Anzi, ho detto che profondamente dentro di noi dobbiamo essere tanto Dante quanto Leopardi, tanto avere la... come dire, la tensione verso la ricerca del vero sapendo che una destinazione c'è, quanto la tensione nella ricerca del vero sapendo o disperando per un'ultima destinazione. Quindi, ho stato felice di sentire queste cose, ma non ho visto dissonanza, non ho visto dissonanza. Però... Sentiamo qualcuno altro, i ragazzi, i ragazzi, i ragazzi, i studenti, i studentessi... Quando il professore ha parlato di temperanza, intemperanza, nel cercare di... l'acqua, il vino, cercare di... ecco, di mediare... Io ho pensato che una realizzazione di ciò, almeno io, per quello che mi costa come esperienza, penso che sia... che si possa avere nella maternità. Mi è venuto questo pensiero. Grazie, non so se... Io non sono molto esperto di maternità. Quindi non... è bello quello che lei ha detto, accettiamo il contributo. Se penso alla mia paternità, ho due figli e... Sì, esiste un momento di capire quando dire di no e quando dire di sì. Ecco, per esempio, i due vasi potrebbero essere questi. Tra l'altro, i ragazzi che ci ascoltano vorrebbero avere sempre dei sì, immagino, dei genitori, ma loro per primi sanno che è altrettanto importante ricevere dei no. Si cresce ricevendo dei sì e si cresce ricevendo dei no. Se fossero solamente no sarebbe sbagliato, se fossero solamente sì sarebbe altrettanto sbagliato. e la temperanza sta nel mescere queste due cose, insomma, la brocca del sì e la brocca del no. Ecco, questo dico a commento del suo intervento. Un brevissimo telegrafico intervento. Il discorso che lei ha fatto, partendo sempre dal motivo del naufragio, mi ha fatto venire in mente che nel Paradiso XI, il canto in cui si celebra la figura di San Francesco, al termine della rivisitazione sintetica dei principali momenti della vita di Francesco, seguendo la vicenda dei Fioretti, e si conclude dicendo, con un elogio che vede insieme, uniti, Domenico e Francesco, si parla della capacità dei due di mantenere la barca di Pietro in alto mar per dritto segno. Mi pare che questo possa essere anche letto come un riaggiustamento, come una sorta di esegesi del gran mar dell'essere in cui fa un neufragio Ulisse. Quello che manca è forse proprio l'idea della diritta via. Lei l'ha citato in un suo intervento precedente, credo l'anno scorso, esordito dicendo che poi quanto si legge anche nel suo libro sul bisogno di pensare, che la vita di ognuno di noi è come uno di sé, lei dice. Bisogna vedere se la si attraversa avendo un'itaca nel cuore e nella mente, quindi avendo una destinazione, come le diceva poc'anzi, o meno. Forse da questo punto di vista la conoscenza che sappia, prima ancora di muoversi, quale sia la meta da raggiungere, e quindi che sia opportunamente guidata, credo che sia la carta vincente che Dante voglia e possa presentarci. In fin dei conti, ricordo in un bellissimo saggio di Pietro Citati, commentando l'attraversamento della zona del mare dove Odissio incontra le sinene, si dice che conoscere può significare anche fare esperienza della morte. In fin dei conti, un po' come si legge in tanti commenti, penso soprattutto a quello della poetica della conversione di Freccero, si dice che la differenza tra l'Ulisse, il viaggio di Ulisse e quello di Dante, è un po' come la differenza che nell'opera dantesca corre tra il convivio e il purgatorio, cioè il bisogno di una morte, di una conoscenza di sé interiore, quello che nella mistica era l'intranos, per poter giungere a una forma di conoscenza superiore, però con la consapevolezza, forse per usare la terminologia che le diceva, con la saggezza di sapere, prevedere, avere la lungimiranza di quale sia l'obiettivo. La ringrazio molto di questo intervento, io concordo su tutto quello che lei ha detto, mi viene in mente solo una cosa da aggiungere, quando lei diceva dell'importanza di avere un'idea, una meta da raggiungere. Io chiedevo a me stesso, mentre lei parlava, qual è la mia meta da raggiungere, cosa voglio? E rispondevo a me stesso, qui quello che già altre volte ho risposto a me stesso, cioè la mia, io penso che il metodo sia più importante del contenuto al riguardo. Sto dicendo in altri termini che per quanto mi riguarda io risponderei alla domanda che cosa voglio, quello che dicevo prima, la vita autentica, essere autentico, non mentire mai, per quanto è possibile. Che non vuol dire, lo dico ai ragazzi qui presenti, non dire mai le bugie, perché a volte qualche bugia nella vita è necessario dirla e così, il problema sono le menzogne. Un conto sono le bugie che possono servire a celare qualche cosa così, insomma, barcamenarsi a proposito di navigazione, no, di barcamenarsi tra le correnti della vita, a volte non bisogna, non si può, non si può, semplicemente non si può dire come stanno le cose. E chi pretende sempre di dire il vero, di dire come stanno le cose, può fare un uso cinico della verità, spiattellare in faccia le cose come stanno, può essere dare dei colpi, no, ferire le persone, può ancora celare, dissimulare, però qui ci muoviamo sul livello, diciamo, le menzogne sono una cosa diversa, soprattutto quelle che si dicono a se stessi, le menzogne che si dicono a se stessi. Quando uno continua a ripetere di credere in alcune cose, di non credere in alcune cose, insomma, continua a ripetere, questo è il punto, essere sempre autentici, per quanto è possibile, non mentire, non mentire a se stessi. Io penso che questa sia l'idea. In altri termini, e chiudo la mia replica, che replica non è un'integrazione a quello che lei ha detto, mi vado convincendo che molto più importanti dei contenuti sono i metodi. A me è capitato di sentirmi unito a persone che non sono per niente credenti, che hanno una visione del mondo diversa dalla mia, che credono al naufragio assoluto, di essere più unito a queste persone talora, che non a persone invece che appartengono, per così dire, alla mia tradizione, ma sento che sono più unito per il metodo. A volte mi è capitato di non essere per niente unito, invece a persone che la pensano diversamente da me, ma anzitutto per la maniera con cui i contenuti vengono proposti, per i metodi, per l'aggressività, per il desiderio di polemico che guida queste cose. Ecco, io penso questo, che sia questa idea che è più forte, deve essere proprio uno, il non mentire mai, e due, secondo me, la ricerca, l'idea di una verità sempre più grande, che non ci sarà mai nessuno che avrà la verità. E quindi, che la possiederà in maniera, semmai uno deve mirare a essere posseduto dalla verità. E quindi armonia. Quindi cercare l'armonia tra i diversi punti di vista. Come diceva Bohr, le verità profonde contengono anche la contraddizione, allora se io mi espongo in maniera autentica e onesta rispetto a chi la pensa, anche l'opposto rispetto a me, io ne guadagno, aumento nella mia veridicità, nel mio essere veridico, nel mio essere vero. C'era una domanda là in fondo? Prego, prego, prego. Però così nessuno sente nulla. Ci sono due microfoni. Se c'è qualcuno che si offre, gentilmente, a fare, come si dice, la valletta. Nessuna? Nessuno? Ecco qua. Grazie. Prima parlava della bellezza dei collegamenti. Ha collegato il concetto di giusto nel mondo cristiano, in Dante, il maestro cinese. Mi piacerebbe se potesse aprire una finestra sul concetto di giusto nel mondo ebraico. Penso al giusto Giuseppe, che ha preso in casa una donna che aveva un figlio non suo. Ma io l'avevo scritto qui, poi ho saltato molte cose. Per il mondo ebraico la giustizia è decisiva, è il concetto guida. A tzedakah è assolutamente decisivo. Quando si parla di Dio, Dio ama il diritto alla giustizia. Mishpat e tzedakah sono nelle mani di Dio. Quindi gli ebrei quando parlano dell'uomo che è compiuto non conoscono il concetto di santità, conoscono il concetto di giusto, giustizia. In parte ne ho parlato quando parlavo di Gesù, perché Gesù viene da lì. Per lui la giustizia aveva il primato di cui ho detto, che è esplicitato dalla presenza delle due beatitudini. Quindi, Isaia, pensi a Isaia, il capitolo primo, se ricordo bene, dove dice voi venite qui, ma io sono stufo dei vostri incensi, riti, liturgie, cose. Lasciate fuori tutte queste cose. Quello che io voglio è che praticate il diritto e la giustizia, che smettiate di essere ingiusti. Quindi è un primato decisivo. A proposito della contraddizione della prima tesi di Hegel, qui lei faceva riferimento, contraddizio est regulaveri. Mi piacerebbe trovare un momento risolutivo, una salvatura. C'è una ricerca di senso in Dante, c'è una ricerca di senso in Leopardi. C'è un approdo in Dante, che è oltre a questo mondo. È la verità che si identifica per lui, con la vita, la vita autentica. Ma c'è una ricerca di autenticità anche in Leopardi. Volevo ricordare il patto dello Baldone del 1820, che così ripercorro un po' a memoria. Non basta intendere una proposizione vera, è a proposito della verità. Non basta intendere una proposizione vera, bisogna sentirla. Sentirne il senso, provarne il senso, la persuasione. Quindi, al di là di ogni ricerca di tipo razionale, oggettivo, c'è un coinvolgimento che è, diciamo, il segno di quel coraggio che è in Dante ed è in Leopardi. Cioè quella dimensione proattiva del cuore che fa cercare, che fa guardare la verità. E dunque, parlavamo di giustizia alla giustizia, con amore. Che poi è l'amore per, appunto, la verità. Una sua riflessione su questo, grazie. È bellissimo quello che ha detto, bellissimo. Non ho niente da dire se non ringraziarla molto del contributo. Io, come ho detto prima, ho inteso minimamente sminuire Leopardi nel controporlo a Dante. Ho un grande amore per Leopardi. Mi sento affine a lui. Uno dei primi libri che io comprai, ricordo, a Caratebrianza, dove sono nato e cresciuto, c'era la cartoleria della signorina Erminia. Scusate, vado in questi ricordi un po' dal libro cuore. Ma io, e lì, comprai le opere di Leopardi, non totale, ma delle edizioni Mursia, le corone Mursia, con la copertina verde, plastificata, quasi simile, fintapelle e così via. E da allora leggo e rileggo Leopardi, quindi non ho minimamente voluto sminuire. E poi volevo aggiungere questo bellissimo, cioè lei ha detto del sentire, sono perfettamente d'accordo, è bellissimo il fatto che bisogna sentire le cose, è bellissimo. Forse mi sentono anche gli altri. Rocco Chinnici, in una rarissima intervista, il giudice che istitui il pool antimafia, lo ricordo ai ragazzi, dice a un certo punto il giudice non è solo, perché ha il codice, la giustizia dalla sua parte, quindi la costituzione, la legge, cioè ha una verità scritta e questo non lo rende solo, questo senso di non essere solo, di essere parte di una relazione, lo vedo un po' analogo al sentire dei nostri, dei poeti, diciamo ecco. Quando Leopardi, una verità terrena la trova in vita alla social catena, all'amore tra tutti, a questo bisogno di sentire la verità, di sostenersi, di condurre comunque un'esistenza di altissima degnità, questo diciamo, lo vedo anche in una lezione che Chinnici fece proprio, penso. La maturità, cioè mi piaceva moltissimo Leopardi, quindi quello che lei diceva poco fa, questa verità, mi è dolce non a frugare in questo mare, oppure, lei proprio, lei non è stato categorico nel dire, è giusto quello che dice Leopardi, o è giusto un'altra versione. Io per esempio sono un esempio, perché da ragazzina mi piaceva moltissimo Leopardi, pur essendo una natura ottimista. E quindi, questo dubbio, questo, non so, lei me lo può spiegare, ma io proprio ero appassionata da Leopardi. Professore, la ringrazio innanzitutto per la splendida meditazione che ci ha offerto oggi, una delle tante splendide che ho sentito in passato. Mi riferisco un momentino ancora a Giotto. Giotto pone la corona di regina alla giustizia, nel senso che le altre virtù, la preminenza sulle altre virtù, al punto che anche le virtù teologali, lei ha detto, possono essere considerate ancelle della giustizia. però, insomma, a un certo punto uno può dire, va bene, io pratico la giustizia avendo altri riferimenti, diciamo, altre ancelle, ma non le virtù teologali. Perché, dico, credo che l'essere giusto corrisponda ad una cultura, anzitutto. cioè la giustizia è una sorta di esposizione sociale di virtù che sono culturali, diciamo, che sono personali, perché fede, speranza, carità sono virtù personali che poi avrebbero una, nella giustizia, la loro manifestazione sociale. Allora, dico, non sarebbe meglio dire che le virtù teologali nell'ambito di queste sette sono il fondamento, il pilastro su cui la giustizia poi esplode socialmente, la vera giustizia, perché possono essere sostituite da altre che non sono loro e ritengono giusti. Allora, bisogna orientarsi. Noi riteniamo, io ritengo che quelle virtù teologali siano il fondamento della giustizia e di altri. ma altre persone potrebbero ritenere di praticare la giustizia su altri concetti, sul concetto della forza, sul concetto della prepotenza, sul concetto della propria nazione come prioritaria, insomma, che è ben diverso dal praticare. Quindi ci sia una relazione tra quelle virtù teologali e quella che riteniamo sia la vera giustizia come virtù carina che ci sia non ancelle ma fondamento. Allora, ho una domanda da farle e vorrei porgliela direttamente perché credo che sia un dubbio comune a tutta la mia generazione all'inizio della discussione lei ha citato due concetti a priori ovvero il tempo e lo spazio e poi si è parlato di giustizia per tutto l'andare della discussione dello scambio ma la giustizia di oggi ovvero la giustizia per come la intendiamo noi persone della mia generazione come può vivere all'unisono insieme alla giustizia di generazioni passate come possiamo trovare effettivamente un equilibrio noi è una domanda che mi spinge molto sinceramente volevo fare una domanda anzi due domande molto brevi una al dottore Mancuso riguardo al rapporto di quanto lui ha affermato conducendosi chiaramente a Giotto sulla preminenza della giustizia sulle altre virtù in rapporto a quanto afferma San Paolo che invece senza la Caritas tutto il resto è indifferente io mi trovo d'accordo con San Paolo devo dire perché mi sembra che il ragionamento intessuto da San Paolo abbia un senso e poi mi aveva tratto questa idea la professoressa Sacco perché ha fatto riferimento a uno studio di Maria Corti che io ricordo di aver letto molti anni fa e in quel passo io ricordo che la professoressa Corti parlava della linguositas adducendo il motivo della condanna di Ulisse proprio come lingua di fuoco proprio perché essendo una verroista quindi un aristotelico radicale propugnava quelle stesse idee che infatti hanno a che vedere poi con la punizione del fuoco nelle aree degli eresiarchi quindi di coloro i quali vedono il mondo limitato all'aspetto materiale allo stesso modo quindi Ulisse essendo un cattivo maestro utilizzando la ragione in modo non retto in questo modo mentiva sapendo di mentire e le prove sarebbero secondo questo studio anche nel lessico utilizzato da Ulisse quando dice una piccola barca una piccola razione come dire come quando i bambini dicono ah ma io ho fatto un piccolo errore cose da niente è quasi come essendo una vittima e il fascino a questo punto che Ulisse attira tanti sarebbe un mito quasi prometeico di sfida di andare oltre ma in realtà tutto nasce da un errore da un frantendimento cioè di un uomo che vuole andare dove in realtà si va solo se invitati come Dante che viene chiamato e non va con i suoi piedi con la sua volontà volevo sapere cosa ne pensava la professoressa grazie e poi chiudiamo perché pubblico si sta se ancora qualcuno chiudiamo il dibattito mi sentite faccio io oppure salve innanzitutto la ringrazio per il suo intervento volevo semplicemente richiamare un attimino prendere spunto dalla domanda della ragazza prima che si chiedeva come fare a conciliare la giustizia del passato con quella del presente io ti darei la mia risposta secondo me è qualcosa che deve essere processuale la giustizia deve essere qualcosa su cui riflettere quindi qualcosa di giusto a priori io non te la saprei indicare né nel mio passato né nel presente sicuramente professore l'unica cosa che volevo sottolineare da insegnante è che parlando di giustizia mi sembra fortemente ingiusto quello che si verifica nel nostro paese così parlo del nostro paese la mancanza di strumenti linguistici nelle mani delle generazioni che io incontro ogni giorno a volte è desolante avvertire il fatto che non si capiscano parole di ordinare amministrazione ho apprezzato moltissimo il suo ricorso alle etimologie perché forse a volte riflettendo sul mio lavoro dovremmo chiudere abbandonare qualunque idea di programma che già è stata cancellata istituzionalmente però è aprire e leggere libri con gli studenti per dare possibilità di espressione non è giustizia questa mi chiedo avere la possibilità di pensare di dare veste ai pensieri di cui ci ha parlato io mi confronto molto sempre ogni giorno di più con ragazzi che non hanno strumenti e quindi ripenso forse alla giustezza dell'azione di personaggi come Don Milani che battevano e avevano a mio avviso centrato un problema che era antico per noi ma che è contemporaneissimo lei ha esordito dicendo che il mondo di Dante era profondamente diverso dal nostro e io ricordo sempre ai miei studenti che la cultura di massa è una novità assoluta è qualcosa di nuovissimo tutto quello che abbiamo studiato a scuola era riservato a delle elite che conservavano potere e amministravano la giustizia oggi forse la giustizia non sarebbe prima di tutto avere gli strumenti per poter pensare e dare contenuto alle cose che si pensano grazie e ora la parola appunto al professore Mancuso si scusate posso velocissimamente velocissimamente io sempre su quella domanda di quella ragazza la mia generazione che viene un po' prima di quella di Mancuso ha poi ascoltato anche Martini ma prima ha fatto cortei in cui si diceva il c'è è vivo e lotta insieme a noi e volevo leggere questa frase del CEA a proposito di giustizia crescete come buoni rivoluzionari era la lettera ai figli prima che fosse ucciso in in Bolivia studiate molto per poter dominare la tecnica che permette di dominare la natura ricordatevi che l'importante è la rivoluzione e che ognuno di noi solo non vale nulla soprattutto siate sempre capaci di sentire nel più profondo qualsiasi ingiustizia commesso contro chiunque in qualunque parte del mondo è la qualità più bella di un rivoluzionario ecco ho letto questa frase del CEA perché io credo che invece ci siano delle immanenti nel concetto di giustizia la mia generazione era convinta che fosse ingiusto che ci fosse gente che avesse anche il superfluo e gente invece a cui mancava l'indispensabile io credo che questo rimanga e rimanga un valore per sempre e credo che su questo si possa anche discutere fra generazioni un'ultima cosa si faceva un riferimento a Milano ho finito volevo chiedere a Mancuso se ritiene che questa concezione di giustizia di Ciechevara sia compatibile con quella che lui ha illustrato prima l'altra valutazione concludo Milani per esempio in una cosa in un passaggio diceva mi sta a cuore ecco l'altra cosa che io ritengo si colleghi alla giustizia è questa dimensione di ricerca della giustizia attiva quindi dell'impegnarsi e del lottare per un mondo più giusto grazie a tutti per aver partecipato ora passo la parola a Vito Mancuso vorrei soltanto accennare siccome sono stata chiamata in causa la tesi averroistica di Maria Corti una delle tesi più suggestive e più importanti della riflessione sul personaggio di Ulisse ma mi limito qua perché sarebbe un discorso piuttosto complesso perché domani il tema centrale sarà proprio il ruolo di Ulisse nella commedia quindi domani potremo riprendere il discorso la parola a Vito Mancuso allora io ho cinque domande davanti a me sono tutte molto importanti e molto complesse quindi dico subito che sarò breve e quindi superficiale inevitabilmente allora la prima diceva delle virtù teologali come fondamento rispetto alle virtù cosiddette cardinali il fondamento io penso di essere d'accordo su questa impostazione perché noi abbiamo bisogno di un fondamento se volete un'altra immagine forse più efficace possiamo parlare di distributore di carburante essere giusti non è facile non è per niente facile così come non è per niente facile essere saggi così non è per niente facile altri due occorre carburante le virtù teologali si possono intendere come carburante distributore di benzina o di gasolio che sia o di gas che sia o di energia elettrica per poter far funzionare il nostro veicolo aggiungo solo le virtù teologali secondo me si devono pensare anche al di fuori della prospettiva cristiana io penso che in ogni essere umano credente o non credente vi sia una dimensione di fede una dimensione di speranza una dimensione di carità ogni persona che ha a cuore la giustizia veramente ha fede nella giustizia perché se uno guarda il mondo così com'è oggi non è che la giustizia è quello che appare in prima battuta anzi quello che appare in prima battuta molto spesso sono esperienze di ingiustizia allora se uno sogna la giustizia questa utopia della giustizia è perché ha una fede nella giustizia sente dentro di sé questa è la dimensione interiore dentro di sé che la giustizia deve avere il primato ma come faccio ad alimentare questa cosa dove viene perché poi spesso succede che il mondo mi scoraggia che non riesco a fare la rivoluzione che non riesco a cambiare le cose e allora devo avere delle fonti di energia per non essere scoraggiato e deluso e risentito ed ecco qui ha quindi la fede la speranza la carità che si possono anche ritradurre laicamente la seconda domanda la giustizia come la intendiamo noi giovani in che modo si collega con la giustizia del passato è innanzitutto è una domanda di tutte le generazioni non è solo una domanda della tua è una domanda di tutti i giovani non solo è una domanda anche dei non giovani Pascal per esempio nei suoi pensieri dice ma guarda è un meridiano che definisce quello che è giusto e ingiusto perché da una parte di un confine una cosa si può fare basta che fai un passo e giungi in un altro stato quest'altra cosa non si può fare quindi tutto sembra allora qui è importante distinguere giustizia e legalità questa è la distinzione decisiva la legalità cambia le leggi cambiano cambiano oggi rispetto a quelle di ieri quelle di ieri rispetto a quelle dell'altro ieri quelle di Atene rispetto a quelle di Sparta quelle di Amurabi rispetto a quelle di Mosè tutti i legislatori della Costituzione francese diversa da quella americana eccetera quindi ci possono essere delle assonanze la legalità cambia la legalità è il tentativo degli uomini di essere sempre più vicini sempre più attenti sempre più capaci di tradurre in pratica la giustizia ius giustizia noi in italiano non la capiamo come collegata direttamente a diritto ma basta pensare in latino ius e iustizia per capire che come stultizia come cioè l'essere stolti e poi la stultizia l'essere ius l'essere giusto e poi la iustizia la giustizia è ciò che personifica l'ipostasi dell'essere giusto e quindi e quindi è questa cosa è il diritto l'essere è dirittura quello che diceva Dante dirittura ma questa è una cosa che tutti gli uomini di tutti i tempi sentono gli antichi egizi 4.000 5.000 anni fa dicevano che la nostra anima alla fine verrà pesata e se parlo della psicostasia degli antichi egizi è perché la bilancia è un simbolo della giustizia questo è un archetipo qui abbiamo a che fare con qualcosa che ha a che fare con l'anima umana di tutti i tempi di tutti i luoghi l'anima umana proprio nel senso di anima spirituale nel senso di anima dotata di capacità di indignazione rispetto e di ribellione rispetto alle condizioni ingiuste per volere non il proprio interesse ma la giustizia per tutti il bene comune e quindi c'è la bilancia io penso che questo si accomuni gli esseri umani prima hai sentito Meng Tzu Meng Tzu è di 2400 anni fa in Cina cioè quindi un altro tempo un altro e non hai sentito che sono vicine a te quelle parole di Meng Tzu non le hai sentite magari no ma io che più o meno appartengo alle stesse coordinate spazio-temporali tue rispetto a Meng Tzu le sento e penso a qualcun altro le sentono profondamente veritiere è così se leggi il libro dei morti dell'antico Egitto quindi bisogna distinguere legalità e giustizia la legalità cambia e quindi possono effettivamente esserci delle differenze tra generazioni ma la giustizia nel senso di ius del diritto che è più di l'ex legis ius iuris questo è qualcosa che è interiore ad ogni singolo essere umano responsabile vero veridico autentico ed è quello che ci unisce ed è molto bello pensare che oltre alle differenze c'è qualcosa che ci unisce e gli uomini di tutti i tempi di tutti i luoghi hanno qualcosa che li unisce questo è molto bello allora terza domanda San Paolo il primato della Caritas devo dire che me l'aspettavo dov'è che signore che mi ha fatto me l'aspettavo perché è evidente perché in ambito cristiano è così ma io devo dirle che non sono che quando leggo l'inno alla Carità di Prima Corinzi 13 sono totalmente consonante con quella maniera di intendere agape di cui Paolo dice che ha il primato quindi io penso che se noi non intendiamo la giustizia come legalità ma la intendiamo come capacità di dare a ciascuno il suo uniquiquesum come il dare il voler dare a ciascuno il suo questo è un grande atto di carità e secondo me anche la giustizia penale così come viene esercitata dovrebbe essere tale e raggiunge veramente la sua efficacia quando dà a ciascuno il suo a ciascuno la sua pena e a ciascuno la maniera migliore di scontare quella pena per recuperarlo come cittadino dare a ciascuno il suo quindi deve essere una giustizia decisamente ad personam lo dico riprendendo questa cosa diventa questa espressione diventata famosa nelle cronache politiche ai tempi di un certo presidente del consiglio che si faceva le leggi a sua immagine e somiglianza ad personam ma in realtà questo dovrebbe essere secondo me l'esercizio della giustizia e da questo punto di vista siamo vicini alla carità tant'è che il salmo dice giustizia e misericordia si abbracceranno cioè ogni è la stessa è la stessa visione la giustizia e l'amore o la misericordia viste da un lato o viste dall'altro viste da un punto di vista oggettivo o da un punto di vista soggettivo ma ecco il contrasto è solo superficiale in realtà non se si intende la giustizia non come legalità ma come non con quella giustizia contro cui contro cui protestava Gesù guai a voi scrivi e farisei ipocrati se la vostra giustizia non supererà quella degli scrivi e farisei non entrerete nei livelli che cosa intendeva distinguere i due livelli di giustizia c'è un livello della giustizia che è degli scrivi e dei farisei legalista da legulei da zecca garbugli c'è invece una giustizia che è un grande tutt'altra cosa che ha molto a che fare con la carità e devo dire che c'è anche una certa maniera di intendere la carità che pecca che pecca perché non sa rendere giustizia in una certa maniera condiscendente il dire sempre di sì non dire mai di no l'essere sempre volente voler solo accogliere 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 senza capire che a volte accogliere parlo di un figlio per esempio vuol dire anche disciplinare c'è una certa maniera esercitare la verità che se dimentica la giustizia non diventa più neanche carità non diventa più anche vero amore diventa ecco un'altra cosa debolezza va bene quarta domanda avere strumenti per elaborare pensieri penso che sia il compito della scuola professore cosa le devo dire esattamente questo lei ha detto benissimo questo è alla fine io ricordo una definizione di Montale da qualche parte della cultura diceva che cos'è la cultura quella cosa che rimane nelle nostre menti quando dimentichiamo tutto quello che abbiamo appreso posso dimenticare le date le cose leopardi dante ma sono capace di pensare se leopardi dante le date eccetera mi hanno reso capace di pensare io sono un uomo che è stato educato se no saprò ripetere delle nozioni quindi è verissimo quello che lei ha detto e questo secondo me è il primo compito della scuola rendere i ragazzi giovani capaci di pensare responsabili e infine sulla giustizia sociale se sono d'accordo o no sulla prospettiva sono d'accordo sì sono d'accordo no è lei che mi ha fatto la domanda vero? no lei in fondo sì sì nel senso che io ho naturalmente una grande attenzione alla dimensione sociale della giustizia certamente che sì non sono d'accordo nel pensare che il cambiamento delle condizioni sociali politiche economiche siano tali da cambiare l'essere umano non necessariamente così ecco quell'idea cioè che la società la struttura politica è più importante del singolo ecco questa idea che infatti anche c'è che vara che ha citato da soli non valiamo niente ecco io non penso io non penso così io penso che da soli possiamo valere tantissimi e che anzi il fine è quello di essere soli ultimamente cioè di di essere ricolmi della propria individualità di saper stare da soli il fine è quello il fine non è partecipare essere sociali lo dice uno che è stato ricordato dalla professoressa all'inizio per me la dimensione relazionale decisiva quindi non è che io penso a me stesso come una monade io penso a me stesso come un elemento inserito all'interno dei sistemi ma i sistemi di cui io faccio parte sono tali nella misura in cui e funzionano e sono da abbracciare nella misura in cui sono tali da non mortificare la mia individualità no io dico di no con forza a ogni forma di collettivismo sia il collettivismo politico sia il collettivismo ecclesiastico dove uno deve appunto alla fine essere una fedele pecorella della chiesa fedele pecorella di niente né della chiesa bianca né della chiesa rossa né di nessun personalmente penso che di nessun partito il fine è l'individuo il singolo capace di indipendenza di autonomia di elaborazione di pensiero autonomo e di appunto di indipendenza quello che diceva Pietro Belardo qualche secolo prima di Dante quando diceva omnes patres sic at ego non sic cioè se anche tutti i padri e tra i padri della chiesa ci possiamo mettere anche Che Guevara che è un padre se anche tutti loro pensano così at ego non si io però non così cioè a me sta a cuore quella possibilità di dire at di dire ma di dire ma io però no cioè questo è lo scatto questa capacità di elaborare pensiero di diversità è lo scatto che crea la vera libertà poi posso anche sbagliare non è che se uno dice at ego non sic avrà sicuramente può anche sbagliare hanno ragione tutti gli altri e sbagli tu va bene ma come dicevo ancora prima la cosa importante decisiva è il metodo è molto più importante come dire raggiungere una prospettiva dove vai fuori strada ma ci vai con le tue gambe quindi sei un individuo pensante che è una prospettiva che ti porta anche nella strada cosiddetta giusta ma rimanendo sempre una pecorella qui una pecorella più o meno può essere bianca può essere rossa ma sempre pecorella questa è la mia convinzione io penso in altri termini e concludo che la vera rivoluzione è interiore è qui dentro nel mare dell'essere interiore che si gioca la partita grazie dell'attenzione grazie a tutti grazie a tutti